Sospesi nel cielo, per tutti gli amanti delle viste in mozzafiato tipiche della montagna, da questo sabato a Sciamonici sarà una nuova attrattiva, un passo nel vuoto. È il nome della nuova terrazza interamente trasparente costruita sulla cima della Guiglie du Midi, una delle creste del Monte Bianco a 3842 metri di altezza. Chi avrà il coraggio di entrare in quella che è stata definita la più alta attrazione d'Europa, massimo una persona alla volta, avrà il piacere di avere sotto i piedi uno strapiombo di 1000 metri. Ovviamente l'installazione è costruita con un'armatura di metallo e 5 vetrate e a prova di cielo e di vento. I temerari visitatori, che si avventureranno all'interno, sborsando 55 euro, potranno stare sospesi nel vuoto. Unica raccomandazione, non soffrire di vertigini.